bella raga sono fermo e ma lui e siamo al quarto video ci faremo la lo sai fare challenge iniziamo con la prima cosa ovvero che dovremo impersonare spongebob proprio negato adesso dove l'inversione un granchio adesso dovremmo in versione impersonale i mini comunque ragù restare in questo video faccio totto sarà etiope epic radio e wind remix infine patrick basil quindi raga finiamo con l'ultima se potesse segnare adesso dovrò impersonare un ragno se va a fare con me esce tanto bene per questa cosa e quindi raga ci vediamo al prossimo video ciao